www.redigio.it E la storia continua. Un'altra storiella in milanese, per i milanesi e in dialetto. La matitina. www.redigio.it L'altro dì, che la mia mia l'afferra sono nel campanello. Voi, a dirvi, e mi tocca poggiare i stipiti. Una bionda alta, venevo tanta, con la minigonna del 10%. Del 10%. Cos'è che avverdi? 18 cm, no? Altezza 1,80. Vabbè, insomma, agherista bionda, che con una voce suave la me fa. Buongiorno, c'è la signora? No, mi fotto il contento. Però c'è il signore che son mi. Posso entrare? Anzi, che la si è comoda. La vendè in cui gambe, lì, che sembrava le corsie dell'autostrada del sole, la fa. Permette? Ma io permetto tutto, le faccia quello che vuole. Lei la derva una valisetta, che la ha da vedere e l'attacca. Vede? La mia ditta ha scelto me per mandarle un omaggio di propaganda. Quello lì, della ditta incaricato di scegliere, è la mano felice. Ha scelto proprio bene. E che omaggio lei? Una serie di prodotti per la pulizia della casa, per la bellezza della persona. E a giudicare della persona si diseria che sono proprio efficaci. Ma la senta, che roba lei? Ecco, vede, uno spray per la pulizia dei vetri della cucina, uno spray per la pulizia dei vetri della sala, uno spray per i vetri della camera, uno spray per i vetri dello studio, uno spray per i vetri... Ma, a che è un spray per ogni veder? Il veder è mica tutti stessi. I vetri sì, ma lo sporco che c'è sopra no. Ogni sporco ha la sua composizione diversa, per ognuno ci vuole il prodotto adatto. Beh, dunque, uno spray per lo specchio dell'anticamera, uno spray per lo specchio del bagno, uno spray per le lampadine, uno spray per il vetro spioncino della porta, uno spray... A che è ma anche spray per i oggi di veder? Sì, ma lei ne ha bisogno, perché al momento siamo sprovvisti. Sì, no, 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 chiedevo così, via generale, tampor sa me. Ma se passiamo i prodotti per la bellezza personale? Ah, sì, certo, ecco qua. Una matita nera per la riga sopra le sopracciglia. Una matita viola per le sopracciglia. Una matita nera per la riga sotto le sopracciglie. Ma, gheraminga, giamola matita nera per la riga sopra le sopracciglie. Sì, ma questo è un altro tipo di nero, più fondo, più carico, più misterioso. Ah, ho capito. Andiamo avanti con i colori. Dunque, una matita azzurra per la palpebra superiore. Una matita nera per la riga sopra le ciglie. Un altro nero. Sì, uno spray per la polvere d'oro sulle ciglia. Una matita nera per la riga sotto le ciglia. Una matita verde cupo per la palpebra inferiore. Una matita... Oh, ma che la senta? Ci sono dei prodotti per la bellezza della faccia o anche per il resto del corpo? Tutta la figura umana può essere sottoposta a trattamenti dei nostri prodotti. Anche ai gambe? Beh, certamente, anzi. E che la senta? Sì, saperemo che fanno un'applicazione dimostrativa? Certamente. Ma adesso la signora non c'è. No, ma chi è a chi è un qui? Pro qua. Mi diceva minga dalla signora. Diceva su di me. Su di me? Sì. Ma adesso non ho tempo. Guardi, ecco, questo è il mio indirizzo. Venga di sera. E adesso? Questi dunque sono gli omaggi. Cioè i prodotti per la polizia della casa. E questi invece c'è i prodotti di bellezza e sono appagamento. Ah, questi è minga gratis. In appagamento. E già, per avere quelli in omaggio bisogna acquistare questi. Solo i cinquemila. Una vera occasione. Ma? Ma parla anche a me un'occasione. Poi con la dimostrazione. Uè, stavo per concludere l'affare. Trac, trac, gavendella me mie che le è tornata. Ma ha detto la portinaia che è salita una signorina. Uè, ma che spietta sta portinara. Beati quelli che hanno la portineria elettrica. Cosa vuole questa signorina? Ah, la solita storia degli omaggi e dei prodotti a pagamento. Niente da fare. A noi non serve niente. Ma veramente il signore? Il signore non sa niente. Il signore non può sapere quali che sono le mie necessità. Annibale, restituisci tutte le signorina. Inci, godai andrei alla bionda più scorsa. Ma minca, naturalmente, il biglietto con l'indiriz. Intanto che le vadrei andrà via, la bionda la fa. Però qui manca la matita nera per la riga sotto le ciglie. Ma è minca quella lì? No, quella è la matita nera per la riga sotto le ciglia. E quella là? Quella è la matita nera per la riga sopra le ciglie. Ui, sta matita, state a me in gaffiera. Cerca di chi? Cerca di là. Insomma, la ghiapio. Sarà finita sotto qualche mobile. Mi dispiace, ma io non posso restituire la mia dita alla serie dei prodotti mancante di un pezzo. Va bene, signorina, paghiamo il pezzo mancante. Non si può comprare un pezzo singolo. Si vende solo la serie completa. Beh, insomma. Mi trinì tutta la serie sganzando le cinquemila. E buonasera. La sera dopo, tac, sono là dalla bionda per l'applicazione dimostrativa. Beh, è veramente efficace. Non mi sono mai applicato tanto bene. È finita la dimostrazione, donno già d'intorno. E lì, tacca al divano, vedi minga una cassetta piena di matite. E fu. Uè, ma chiesti chi? E minga tutti le matite nere per la riga sotto le ciglia. È bravo. Vedo che hai già imparato. Sono qui, per i clienti come te, che non l'hanno più trovata. Ah, perché capita anche agli altri di perdere la matitina. A tutti. Ecco, te la vendo. Così hai la serie completa. Meno male, perché la mia mia, la vadre a mename del turon, che mi la matitina l'ho perduta e posta per comprarte la roba. Ma, ma da matrà, t'avete minga di che non si può acquistare un singolo pezzo? Sì, ma qui a casa mia, con la dimostrazione, è un'altra cosa. Ah, va bene. Quanto ti devo? 50.000 lire. www.redigio.it E la storia continua. www.redigio.it